In questa lezione impareremo la doppia maglia alta, oppure maglia altissima, viene chiamata in questi due modi. Allora, prendiamo il nostro lavoro. Io, per facilitare un po' e per rendere più chiare le spiegazioni, sto lavorando su un giro di maglia alta che ho preparato precedentemente. Ma voi potete eseguire la doppia maglia alta su qualsiasi lavorazione. Quindi potete fare un giro di catenella, un giro di maglia bassa, per allenarvi, non importa. Allora, iniziamo facendo 3 catenelle. Ok, e partiamo con la nostra maglia altissima. Si chiama doppia maglia alta, quindi, se vi ricordate, la maglia alta si faceva prendendo il filo una volta, infilando l'uncinetto nel primo buchetto, facendo uscire fuori il filo e facendolo passare prima nei due cappiolini e poi negli ultimi due. Questa qui è una maglia alta. Per fare la doppia maglia alta dobbiamo prendere due volte il filo. È semplice da ricordare, lo dice la parola stessa, doppia maglia alta. Quindi prendiamo due volte il filo, infiliamo l'uncinetto nel secondo buchino, prendiamo il filo di nuovo, abbiamo quattro cappiolini. Prendiamo il filo e lo passiamo nei primi due, prendiamo il filo di nuovo e lo passiamo nei secondi due, prendiamo il filo di nuovo e lo passiamo negli ultimi due. Questa qui è una doppia maglia alta. Ripeto l'operazione. Prendo il filo due volte, infilo l'uncinetto nel buchetto successivo, riprendo il filo, riprendo il filo di nuovo, nei primi due cappiolini, in altri due cappiolini e negli ultimi due. Ripeto. Prendo due volte il filo, infilo l'uncinetto, prendo il filo di nuovo e ho quattro cappiolini sul mio uncinetto. Prendo il filo, lo passo attraverso i primi due, poi nei secondi due e poi negli ultimi due. Queste qui sono delle maglie altissime o doppie maglie alte. Velocizzo così arrivo alla fine del filo e vi faccio vedere qual è il risultato del lavoro. Ecco qua. Come potete vedere, un giro di maglie altissime è più alto, eccolo qui, di quello precedente di maglie alte semplici. Voltiamo il lavoro, facciamo tre catenelle e ricominciamo. Ci vediamo per le prossime lezioni. Ci vediamo per le prossime.